Buongiorno, sono Federico Sollazzo, insegno filosofia morale e filosofia politica in inglese presso l'Università di Seged. I miei interessi di ricerca sono teoria critica della società, generologia della modernità, filosofia della tecnologia. Ho pubblicato diversi articoli facilmente reperibili anche su internet, su Marcuse, Arendt, Galen, Pasolini, Sartre, Camus, l'antropologia filosofica moderna, la relazione tra totalitarismo e democrazia e la questione del potere nella modernità. Il mio volume intitolato Totalitarismo, democrazia, etica pubblica ha vinto il premio speciale della giuria alla sesta edizione del premio nazionale di filosofia dell'Associazione Nazionale Pratiche Filosofiche. Vorrei ora presentarvi brevemente il mio portale di filosofia Criticamente. Criticamente è online dal 2009, si occupa prevalentemente di filosofia e teoria delle scienze umane e è nato per rispondere fondamentalmente a due mie esigenze, una riguardante esclusivamente me stesso e una in rapporto con altre persone e altre idee. Per quanto concerne la motivazione relativa esclusivamente a me, è nato criticamente con l'intenzione di dare maggiore visibilità ad articoli, a pubblicazioni varie che spesso mi trovavo e mi trovo a fare su riviste specialistiche che hanno però qualche difficoltà di divulgazione, di diffusione e quindi mettendo tutto il materiale online diventa più facilmente reperibile per chiunque abbia desiderio di leggere tale pubblicazione. C'è però anche un'altra motivazione che è quella di dare un po' di spazio per quello che Criticamente riesce ad offrire anche a persone e idee che a mio personale parere meritano di avere più spazio di quello che attualmente hanno per problemi che possono essere legati o in generale al mondo dell'editoria o semplicemente al fatto di essere fuori dal cosiddetto giro giusto, ma non per questo quello che dicono deve essere in qualche modo silenziato o taciuto. Il nome che ho scelto criticamente è direttamente riconducibile alla teoria critica della società e quindi a quel tipo di senso critico, a quel tipo di coscienza critica e non è un caso infatti che come ho detto poco fa le motivazioni per le quali il sito è nato non hanno nulla a che vedere con motivazioni ad esempio di tipo commerciale, propagandistico o massificante ma rispondono a tutt'altre logiche che per quello che io riesco a fare sono logiche esclusivamente di tipo qualitativo. Ho scelto questa formula del sito, quindi della comunicazione online, ben consapevole di quelli che sono i problemi di questo tipo di comunicazione, d'altra parte la scuola di Francoforte ne ha parlato diffusamente tant'è vero che nonostante il fatto che criticamente utilizzi diverse forme comunicative cioè ci sono i classici articoli ma ci sono anche dei video o dei file audio che rispondono ad esempio alla registrazione di conferenze o seminari nonostante tutto questo il modo in cui io affronto questa impresa online è quello di essere sempre consapevole del fatto che una comunicazione filosofica che viaggia attraverso questo vettore virtuale è sempre una comunicazione filosofica dimediata, una comunicazione in generale non solo filosofica tant'è vero che per il modo in cui io intendo appunto questo tipo di comunicazione filosofica online io credo che il massimo che si possa fare anche qualora il contenuto fosse di qualità eccelsa è soltanto quello di avviare la discussione su quel certo argomento di portare l'attenzione su quel certo argomento dopodiché quell'argomento però va inevitabilmente sviluppato deviso perché l'intelligenza necessita della dimensione corporea per svilupparsi compiutamente